melanzane ripiene semplici benvenuti nella mia cucina comincia tagliando a metà le melanzane con il coltello incidi la polpa di tutte le melanzane per facilitarne la cottura trasferisci le su una teglia da forno e condisci con olio e sale cuoci in forno a 190 gradi per una mezz'ora abbondante per ottimizzare puoi cominciare a cuocerle anche se il forno non è a temperatura una volta cotte preleva la polpa prima aiutandoti con un coltellino e poi con un cucchiaio trasferisci la polpa in una ciotola e aggiungi il pane il prezzemolo tritato e il formaggio grattugiato condisci con sale pepe e infine aggiungi l'emmental a cubetti mescola per bene poi farcisci le melanzane svuotate con il ripieno appena ottenuto distribuisci l'equamente tra le melanzane condisci con un filo d'olio e rimetti in forno per circa un quarto d'ora servi le calde e ben gratinate buon appetito buon appetito Grazie a tutti.